e 15 sud a 78 insomma facendo il fondo della sella sono 28 miglia e mezza quadro sono quasi 53 quindi normalmente in ghiaccio si è tirato da quelle parti non va a essere 20 anni di seconda questo è il record vediamo che altro c'è se tenete presente la situazione di primo ho preso una cartina aggiornata vedete questa qua è la mappa satellitare aggiornata con il profilo questo fu il record dell'italica vent'anni fa qua ho messo ho potuto metterlo con precisione qua porta le linea parallele ed è una preazione questo è il parallelo di 78 e questo è il nuovo record quindi questo vista dal parallelo questo è vista così sono 50 km un record dei negativi diventi bicchiere come non mettiamo bene a questo punto voglio dire una cosa importante che io ritengo importante cioè noi non abbiamo serie storiche tanti per poter dire il fatto è che il ghiaccio si sta sciogliendo però non possiamo dire se è positivo se è negativo perché non abbiamo non abbiamo gli strumenti le serie statistiche nostre risalgono a 100 anni che prendiamo da pochi per cui sono talmente pochi e onestamente però si innesca un meccanismo molto molto noti nelle accademie della ricerca il sensazionismo che praticamente influisce sull'opinione pubblica stanno prendendo i fuori stanno prendendo i pinguini il pubblico il pubblico prevo sul politico o volete che i voti lo accontenti dai soldi per la ricerca aumenta i punti del suo questo è il circolo che si crea però in tutta onestà non abbiamo abbastanza può essere un fenomeno civico questo scioglimento che magari tra 300 anni chissà ma quando facevamo storia noi abbiamo quelle serie statistiche nella bibbia con i pochi dati noi ci abbiamo dati praticamente 10 mila anni e che sono 20 mila anni fa e quindi possiamo dire che questo sia un evento eccezionale e non cittadino non possiamo dire ma non cittadino ci sono di ghiaccia quello è il fatto che non ho trovato se stasera però poi lei diceva ma è positivo o negativo si sta dalla casa e sta determinando dico io che è un fatto positivo però qui era il subruzzato questa cazza i giornali di stamattina hanno iniziato la cronaca raccontato che addirittura dalla cornovaglia quindi in basso hanno visto l'aurora coreale dove per vederla precedentemente si doveva arrivare a sei chiavi in auro e significa che il sole sta modificando e allora ecco che contarsi che vi ricordate il dottore Bifurco che ci ha parlato di un intervento dell'uomo nella modifica della temperatura del buco dell'ozono per una certa percentuale ma in gran parte è da attribuire alle variazioni del sole quella di stamattina che l'aurora boreale si è vista quasi in Germania e ci fa capire che effettivamente questo sole sta modificando i suoi parametri importanti di lancio di... ma pura della desertificazione sono tutti i fenomeni negati le piogge equatoriali che fa qua queste piogge brevi e intense sono tutti i fenomeni che però ripeto non... non possiamo dire se siano ciclosi o siano eccezionali a meno io credo di... non abbiamo gli elementi non abbiamo gli elementi vediamo tutto il mistero sotto vedete dove sta la Corea e la Cina Luigi spiegaci meglio ai nostri amici il fenomeno del passaggio al nord piuttosto che fare il giro per sotto una nave che deve venire dal Giappone in Europa questo è un'altra cosa praticamente qua non stiamo a spiegare diciamo teoricamente però c'è un lato di fatto con lo scioglimento dei Giappone parliamo della Siberia settentrana eccetera una nave che ad esempio dalla Groenlandia vuole andare in Cina il che non è per ripeto perché tenete presente che la Cina ha comprato ha già comprato l'esclusiva delle delle nave che ci abbiamo nelle telefoniche già si incattate quindi una nave che dalla Groenlandia dovesse andare in Cina oggi con lo scioglimento c'è due alternative una per sopra e un'altra per giù tipo mediterraneo oppure Africa eccetera eccetera credetemi sulla parola c'è un risparmio diciamo di miglia veramente rilevante per cui c'è la possibilità di studiare questo tipo di percorsi il percorso alternativo e in maniera simile e anche questa navigazione tra gli strutturi naturalmente non solo ma qua siamo in pieno siamo in piedi o qua si vende anche la convenienza l'economia e altre cose però teoricamente quel passaggio è molto convenibile rispetto a quello mediterraneo si risparmiare adesso non ho i dati e lo dissi poi a suo tempo facendo proprio una conferenza si 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 come navigare l'India l'Africa per raggiungere i porti del sud est asiatico piuttosto che parli tra l'Europa si e questo è il famoso nord est quella immagine che vi ho fatto vedere con l'orso per camminare vai vai la Baia delle Bavene questo è il Krill il Krill penso lo conosciate è la base l'elemento a base delle Bavene e quindi la Baia delle Bavene e là gli astronomisti sono andati a fare anche i rilievi e dove hanno partagguito i conti e quindi grazie 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 grazie